Il corso è stato immediatamente molto contento perché dalla descrizione sembrava un corso molto interessante che mi avrebbe aiutato significativamente a migliorare le mie capacità con l'inglese. Ed ho pensato che effettivamente questo potesse essere utile per il futuro. Mi affascina molto la leadership, i libri, la teoria, ma metterla in pratica era proprio un'occasione che se c'era la possibilità di farla avrei voluto cogliere. In un'altra università comunque questo tipo di opportunità non ci sono e quindi ero molto contento del fatto che comunque in LUIS ci fosse questa presenza. Sono stata molto felice di dare notizia per partecipare a questo corso di Cross Cultural perché ero curiosa di affrontare il tema anche da un approccio più teorico. E' una di quelle cose che ti prepara anche poi più avanti a tutte quelle realtà in cui comunque ti troverai a lavorare con un team di persone ed è stata un'opportunità in più. Mi ha permesso di perfezionare l'utilizzo della lingua inglese in relazione a ciò che è il mondo del lavoro. Certamente mi ha fornito delle strategie, dei metodi appunto per risolvere al meglio i problemi che si incontrano anche nella vita di tutti i giorni. Tutto il percorso è stato molto interessante, veramente anche coinvolgente. Il confronto con i colleghi molto stimolante. Dinamica, utile e illuminante. Divertente, coinvolgente e stimolante. Direi che è stata un'esperienza creativa, dinamica e formativa naturalmente. Però consiglierei perché mi ha davvero illuminato e spero davvero di poter mettere a frutto quello che ho imparato nei prossimi colloqui, se ce ne saranno. Mi sentirei di consigliare questo corso a tutti quelli che come me si trovano, o si sono trovati al termine del proprio percorso di studi. Consiglierei questo corso a chiunque, veramente, perché dà delle capacità proprio di esprimersi con gli altri, che sono molto importanti.